Musica Legalità e lavoro, i temi caldi al centro della seconda giornata di Terra Futura. Ospite d'eccezione il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, che ha spiegato che non esiste più solo un'intimidazione violenta. La mafia si insinua spesso o subdonamente come una malattia contagiosa in zone di disagio sociale. Si viene così a delineare un vero e proprio patto di convenienza tra le aziende e la criminalità organizzata. Per Pignatone la repressione deve essere costante, efficace e continua. Serve poi la presa di coscienza della società civile verso questo rischio che mette in pericolo la democrazia, prima ancora delle economie e della libertà dei singoli. Al convegno è intervenuto anche Ivan Lobello. Per il vicepresidente di Confindustria la lotta alla mafia non può essere più condotta esclusivamente su un piano etico e morale, ma deve essere spostata necessariamente su quello economico e sociale. Servono mercati trasparenti e regole precise per gli imprenditori. Seconda giornata di WWW World's World Web, elemento promosso da Fondazione Sistema Toscana e Fondazione Culturale e Responsabilità Etica all'interno di Terra Futura. Oggi spazia numerosi casi di green start-up e realtà imprenditoriali che hanno trovato nella green economy un ulteriore volano di sviluppo. Domani, ultima giornata, si discuterà di finanza tradizionale, dei flussi di denaro che l'alimentano, ma anche di finanza etica e di come cambiare le cose a partire dal proprio conto in banca. Non con i miei soldi e la campagna di sensibilizzazione sul tema dell'uso consapevole del proprio denaro, promossa da Banca Etica, incontrerà esponenti di Occupiamo Wall Street e Move Your Money, i movimenti che negli USA in Gran Bretagna stanno sollecitando migliaia di persone a cambiare dal basso le regole della finanza attraverso le proprie scelte di risparmio. Le mafie hanno bisogno di economie debilitate e in difficoltà perché così riescono meglio a penetrare e vampirizzare il sistema economico. Ad affermarlo nella cornice di Terra Futura è il segretario della CISI, Raffaele Bonanni. L'azione contro le mafie ha valore non solo morale di giustizia aggiunto, ma anche un valore economico straordinario e il sindacato sostiene questa azione da sempre. Bonanni ha poi toccato il tema del lavoro e della riforma dei licenziamenti nella pubblica amministrazione. Sulla proposta del ministro Fornero di equiparare il contratto dei dipendenti pubblici a quello dei privati in materia di cessazione dei rapporti, il segretario CISI va giù duro. La Fornero è l'unico ministro del lavoro nel mondo occidentale che incita i licenziamenti, si inserisce nel dibattito con gli scarponi chiodati. Pecorino d'op, prosciutto, latte biologico e pasta tutti madintascani. Sulle tavole delle scuole arrivano i prodotti della filiera corta con 2000 pasti al giorno, chilometro zero per gli alunni. È merito del progetto più vicino più buono promosso dal comune di Bagnarripoli con il sostegno della regione toscana e la collaborazione del SIAF. Un progetto che porta i prodotti della filiera non solo nelle mense scolastiche ma anche in quelle ospedaliere. Ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Salvadori al quale hanno fatto ecco le parole del direttore di SIAF, Ciappi. È una forma di economia di base, ha spiegato il direttore, ed è un progetto che supera il concetto della ristorazione scolastica e va oltre. Questo è un vero e proprio modello di sviluppo. È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione toscana il bando da 13 milioni di euro per interventi pilota rivolte alla sperimentazione di forme innovative dell'abitare e del costruire. Lo ha annunciato l'assessore a welfare e alle politiche per la casa Salvatore Allocca nel corso di un convegno sul social housing. I comuni avranno sei mesi di tempo per presentare le proprie proposte nell'ambito delle tre linee di intervento previste. Il 50% dei 13 milioni è destinata ad interventi pilota di co-housing secondo le tecniche della bioarchitettura e bioedilizia e serviranno per costruire o recuperare alloggi da dare in affitto ad un canone inferiore a quello di mercato. Un 25% sarà messo a disposizione per la costruzione di alloggi di rotazione, destinati cioè a persone o famiglie che si trovano in una condizione temporanea di disagio abitativo. Il restante 25% sarà utilizzabile per interventi sperimentali di autocostruzione o autorecupero.